Allora, credo che sia importante una corretta pianificazione degli strumenti urbanistici con la conferma della legge sulla difesa del suolo che però va resa più fessibile lasciando maggiore autonomia comunale con obiettivi che vanno rispettati a livello di macroaggregati territoriali da identificare. Sulla questione ciclo di rifiuti bisognerebbe fare più raccolta differenziata con l'obiettivo di ridurre a zero il sacchetto nero. A tal fine si potrebbe introdurre un sistema regionale di certificati verdi da riconoscere a favore dei comuni virtuosi a scapito di quelli che non intendono raggiungere tali obiettivi. Bisognerebbe parlare anche in regione Lombardia di mobilità sostenibile. Quindi entro il 2027 tutti i mezzi di trasporto pubblico devono essere elettrici. Inoltre incentivi alle energie rinnovabili su fotovoltaico e dell'olico. La logica di chi inquina meno paga meno. Se si fa l'impianto fotovoltaico per esempio può essere una strategia quella di proporre di avere una riduzione e di pagare quindi il 30% in meno di addizionale regionale. Credo che sia importante focalizzarci su un'economia e un sistema più green che sia efficiente e che quindi ci permetta alle nostre aziende di lavorare senza problemi ma con un'attenzione all'ambiente. Quindi assolutamente in regione Lombardia dovrà occuparsene e noi saremo i primi ad occuparcene. Grazie. Sono pienamente convinta di quello che chiede la domanda per cui che ci sia la necessità di una regia e di una regolamentazione a livello regionale sia per la logistica che per le infrastrutture. È evidente che quello che sta accadendo per quanto riguarda la logistica nella nostra pianura ma un po' tutta la provincia è anche sancito dallo studio che è stato realizzato in collaborazione tra provincia e università di Bergamo dove i numeri mostrano il trend sia passati che futuri del settore sempre in aumento per cui dove emerge fortemente la concentrazione della logistica insediata e strutturata su arterie viabilistiche stradali. Qui le strade sono due. O si decide di subire la scelta lasciando soli i comuni a battagliare l'un l'altro ingolosite dagli oneri di urbanizzazione e sappiamo appunto che noi comuni abbiamo sempre bisogno insomma di denaro e laddove vi è una rinuncia da parte di un'amministrazione però il comune si ritrova che la realizzazione va nell'insediamento del comune adiacente. Quindi in questo modo la subiamo oppure la governiamo per cui governare la situazione avendo anche qui una visione e una regolamentazione più alta. Per esempio, qui potrebbe essere un'idea, lavorare per area vasta con una distribuzione degli oneri di urbanizzazione nei comuni limitrofi per l'utilizzo delle strade, per mutuare l'impatto del traffico e l'impatto ambientale e sociale. A mio avviso non è pensabile che la regione debba esprimere un parere ad esempio vincolante per un insediamento commerciale superiore a 1500 metri quadri e non ci siano strumenti di pianificazione per un settore così importante per il sistema produttivo intersecato dalla strategia industriale di una regione come la Lombardia lasciando davvero le amministrazioni locali in totale abbandono e alla improbabile gestione del problema. Ho visitato parecchie amministrazioni in questi giorni e tutti hanno evidenziato questa tematica proprio che c'è necessità di una regolamentazione. Come forza politica noi vorremmo che il tema quindi non fosse derubricato a semplice propaganda ma che si possa trasformare in un'opportunità per ragionare attorno alla visione appunto infrastrutturale e intermodale della mobilità di merci di persone dentro una strategia ambientale, una strategia occupazionale e industriale di medio e lungo periodo e non solo come un'opportunità di speculazione immobiliare. Quello che posso impegnarmi io in Regione parlo di me mossa proprio dalla convinzione che il compito della politica è quello di far accadere le cose e non di subirle è che venga promulgato un disegno di legge regionale che pianifichi e che sia da supervisore non solo per la dimensione provinciale ma che dia la dimensione provinciale dentro un quadro regionale all'interno di un contesto europeo internazionale. Vi è un'evidente necessità di una maggiore capacità di fare rete e di progettare in modo più coeso uno sviluppo del territorio che sia più sostenibile, possibile in termini ripeto sociali e ambientali oltre che economici. Serve quindi un supporto della Regione di visione, di pianificazione che non lasci appunto soli i comuni di fronte alle sfide fuori dalla loro portata e che non solo sia appunto un tema economico come dicevo prima ma davvero si veda a 360 gradi il tema ambientale e sociale riducendo il più possibile il consumo del suolo agricolo ed è possibile mettendo a disposizione e utilizzando il patrimonio immobiliare dismesso le aree urbane abbandonate riqualificandone. Mi permetto di citare un esempio perché sono andata giusto in visita l'altro giorno non so se posso fare nomi però è quello che è successo ad Aruba che è l'azienda che si è insediata nella vecchia Legler dove la politica è intervenuta e non solo ha messo a disposizione un'area abbandonata ma ha anche preso accordi con la scuola istituendo delle accademi per la formazione di personale qualificato. Quindi si può, si deve, anche qui senza nessuna ideologia preconcetta ma ha la voglia di sedersi a un tavolo, studiare, analizzare, progettare perché oggi è la logistica. Ieri sono stati i centri commerciali e domani saranno i data center o quant'altro. Grazie, questa domanda è molto importante perché la transizione ecologica e il tema del contrasto al cambiamento climatico è il grande tema di fronte al quale ci troviamo e la nostra regione essendo una delle più industrializzate e delle più abitate d'Europa deve affrontarlo. Allora torno a quello strumento quadro che ho già citato cioè la necessità di un piano regionale per il contrasto al cambiamento climatico che apra interlocuzioni anche con le altre regioni padane perché di questo dobbiamo ragionare. In particolare sul tema degli insediamenti della logistica del consumo di suolo e di tutte le problematiche connesse che avete citato nella vostra domanda io credo che ci troviamo ancora una volta di fronte ad una situazione di disparità cerco di spiegare perché se il sindaco o l'amministrazione del singolo comune magari piccolo si trova a doversi confrontare a dover discutere con un grande gruppo internazionale che vuole insediare logistica ma anche nazionale si trova in una posizione di disparità rispetto alle informazioni sul funzionamento del sistema all'ottica anche che il singolo comune rivolge innanzitutto al proprio bilancio o alle proprie necessità locali non è possibile che quello sia un luogo di regia la regia deve stare su un livello territoriale più ampio la regione deve agire in modo che possa supportare i livelli inferiori di governo del territorio le province innanzitutto che fino a prova contraria sono un ente pianificatore rispetto al tema della viabilità e del trasporto che è connesso a questo punto ma la Lombardia la regione Lombardia deve dare delle linee guida o meglio ancora fare una legge quadro il consumo di suolo c'è ma con un approfondimento su questo tema dell'insediamento della logistica nel territorio regionale e fare quindi da quadro e da sostegno anche nelle trattative e nell'interlocuzione da sostegno agli enti di grado territoriale inferiore province e comuni quindi strumento normativo di indirizzo e accompagnamento anche nelle procedure vediamo che noi nella provincia di Bergamo stanno edificando tantissimo molto stanno facendo nuove strade stanno cimentificando tantissimo questo però è un danno per il cittadino perché cimentificare vuol dire aumentare l'inquinamento vuol dire dare meno spazio ai cittadini meno parchi meno verde e noi abbiamo bisogno del verde perché il verde ci fa respirare meglio questo andrà sempre meno perché le politiche degli ultimi anni è di cimentificare edificare capannoni che la maggior parte sono dismessi io direi ricostruiamo i dismessi sistemiamo i dismessi e non costruiamo più perché non ha più senso ce ne sono veramente tanti nella nostra provincia ne abbiamo una anche noi qui qua vicino a Calefe che ci sono tantissime fabbriche e capannoni dismessi perché il tessile purtroppo soprattutto nella ex Valle d'Oro non è più Florida come lo poteva essere ai tempi più o meno 10-20 anni fa a Calefe a Calefe Grazie a tutti.